Ok, allora a questo punto vi racconto qualche cosa su altri algoritmi che possono tornarci utile durante gli esercizi, sempre relativi ai grafi, l'abbiamo lasciato indietro perché abbiamo iniziato a fare simulazioni e così ci siamo potuti esercitare anche sull'altro argomento e gli argomenti che volevo citare oggi senza approfondire troppo perché in realtà dal punto di vista teorico in teoria li dovreste aver già visti nel corso di ricerca operativa ma come sempre ci serve capire il concetto, capire le limitazioni e poi capire come si applica nella libreria, quindi ci saranno varie slide su cui sorvolerò perché magari sono dei dettagli o degli esercizi svolti passo passo che ci interessano poco perché sono più relative alla teoria degli algoritmi. Allora il primo punto che volevo trattare è quello di cammini minimi, che è una domanda molto frequente, noi abbiamo, ad esempio della metropolitana, abbiamo già cercato dei cammini di lunghezza minima, lunghezza minima intesa come, calcolata come numero di archi attraversati, perché quello l'avevamo costruito con un grafo non pesato e quindi ciascun arco era equivalente a un altro e quindi avere un cammino breve significava attraversare pochi archi, ma se avessimo invece un grafo pesato non è detto che il cammino più breve, meno costoso, col peso minimo coincida con quello che ha meno archi ovviamente. Quindi proviamo a rispondere a questa domanda qual è il cammino più breve tra un vertice S e un vertice V. Quindi dobbiamo definire quello che non abbiamo mai fatto finora, o velocemente la prima volta che abbiamo parlato di grafi, il peso di un cammino è definito in modo abbastanza intuitivo come la somma dei pesi degli archi appartenenti al cammino stesso. Cammino ricordiamoci l'avevamo definito come una sequenza di vertici, una sequenza di vertici veramente consecutivi. Il caso generale è quello dei grafi pesati e orientati, poi ovviamente se il grafo fosse un grafo non pesato allora lo possiamo approssimare dicendo che il peso è uguale a 1 per tutti gli archi, se fosse un grafo non orientato allora questa definizione vale lo stesso, semplicemente basterà pensare che ogni arco compare due volte nei due versi. Quindi la funzione che vogliamo minimizzare è questo peso di un cammino tra tutti i possibili cammini che portano da un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Quindi cammino di peso minimo dati e che devono essere fissati un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Ovviamente essi sono connessi, se il vertice V è raggiungibile a partire dal vertice U può essere raggiungibile attraverso un cammino solo, attraverso due cammini, attraverso cento cammini diversi e mi chiedo qual è quello il cui peso è minimo, che non è detto che sia quello che ha la lunghezza minima in termini di numero di archi. Come terminologia a volte si usa il simbolo D per distanza, il delta, una D per distanza, distanza tra U e V. Quindi definiamo la distanza da un vertice a un altro come il peso del cammino più breve, ovviamente il concetto di distanza implica sempre la distanza minima. Dal punto di vista algoritmico, data questa definizione che va bene, è matematica, io mi posso trovare di fronte a problemi diversi. Ad esempio il tipico problema del navigatore è dato un punto di partenza, un punto d'arrivo, trovami la strada. Il cosiddetto single source, shortest path. Cioè i cammini più brevi data un punto di partenza ben definito. E' anche ovviamente un punto d'arrivo, però vedremo che gli algoritmi in realtà se ne fregano abbastanza del punto d'arrivo, non gli serve conoscerlo. Oppure ci sono dei casi in cui magari devo precalcolare delle operazioni e ho bisogno dei cammini minimi a partire da tutti i vertici di partenza. Quindi ho bisogno di una struttura dati che mi permetta di calcolare qual è il cammino minimo partendo da un qualunque nodo, ossia da tutti i possibili nodi. E' vero che questo problema lo posso risolvere semplicemente calcolando il cammino minimo partendo dal nodo 1, poi il cammino minimo partendo dal nodo 2, poi dal nodo 3, poi dal nodo 4, però ci sono gli algoritmi ottimizzati che nel caso in cui io sappia già che dovrò fare tanti cammini minimi da tanti, o tutti, i punti di partenza diversi, allora sono più ottimizzati già per questo caso specifico. Sono i cosiddetti all pairs. Cioè ti do tutti in un'esecuzione unica dell'algoritmo, ti do già tutti i percorsi tra ogni coppia di vertici. Poi come sempre la differenza tra, se vogliamo, la formazione matematica e la formazione algoritmica è che se tu vai a vedere dal punto di vista matematico ciò che ti esce fuori dall'algoritmo normalmente è un numero che ti dice la distanza, la lunghezza minima. Sì, va bene, è interessante conoscere la lunghezza minima, magari è più interessante anche conoscere il percorso. Quindi come abbiamo già visto anche sulle visite un conto è dire che questo vertice è raggiungibile, l'altro è che c'è un po' di fatica in più per riuscire a trovare come lo raggiungono. Quindi molto spesso, oltre al valore che esolve il problema matematico, ci serve effettivamente anche la sequenza dei vertici da attraversare. Ok, come lavorano questi algoritmi? Questi algoritmi lavorano alla fine su una versione adattata dell'albero di visita che abbiamo usato quando facciamo le visite. Cioè alla fine stiamo cercando di costruire, e ci arriviamo, una sorta di albero che rappresenta, che codifica i cammini minimi. Adesso vi devo convincere che basta un albero, però ci arriviamo, un paio di passaggi. Quindi per rappresentare dei cammini, l'abbiamo già visto con l'albero di visita, un modo comodo è quello di ricordarci per ogni vertice il vertice precedente. L'abbiamo fatto con la nostra mappa, oppure poi ci siamo accorti che c'era già il metodo nel birth first iterator. Quindi per ogni vertice so qual è il vertice precedente che giace sul cammino minimo per arrivare a questo vertice. Questa è la struttura dati comoda con cui lavorare, in cui abbiamo già lavorato, ci siamo resi conto che, diciamo così, è semplice memorizzare la direzione verso la sorgente anziché in avanti, sono all'indietro, il vertice precedente. In più qua abbiamo un'informazione in più di qual è la distanza, di qual è il peso a cui sono arrivato. Qui non siamo più in un contesto in cui l'albero di visita in ampiezza, quando mi trovo un vertice, me lo trova per costruzione con la distanza minima. Qui puoi trovare i modi diversi, da percorsi diversi e il peso potrebbe essere non necessariamente, anzi, la distanza, il numero di archi. E quindi ho bisogno di salvarmi anche da qualche parte qual è la distanza con cui sono riuscito a raggiungere v partendo da u. Queste sono le strutture dati, diciamo così, di appoggio per tutti gli algoritmi che vedremo. Quindi, ipotizzando di voler partire dal vertice sorgente s, questo è un possibile punto d'arrivo di un algoritmo di ricerca di tutti i cammini minimi a partire da s. Vogliamo arrivare a y, ad esempio, invento, da s, s dal punto di partenza sorgente, immaginiamo di chiederci, ci serve sapere qual è il cammino minimo per arrivare a y. Allora, a occhio vediamo che i cammini sono molti, posso fare s, x, u, v, puoi scendere giù, oppure s, x, y direttamente, oppure s, u, x, y, cioè ci sono tanti cammini possibili. Ciascuno avrà ovviamente un suo peso che è dato alla somma ai numerini che incontra. L'algoritmo gira e mi calcola come punto d'arrivo una cosa di questo genere. Mi dice, guarda che per arrivare a y ci puoi arrivare con un peso 10, 10 è il peso minimo. Ho questo già il risultato dell'algoritmo, non abbiamo ancora visto come fa, no? Però vediamo come rappresenta i dati. E come faccio ad arrivare a y con una distanza 10, con un peso 10, me lo dice, a y arriva c da v. E come faccio ad arrivare a v? A v arriva c da x, a x arriva c da u, u arriva c da s e s è la radice. Quindi al contrario so che il percorso più breve per arrivare da s a y è s, u, x, v e y, che paradossalmente è quello che attraversa il maggior numero di archi, ma lo fa col peso minore. Il percorso col numero minimo di archi, che sarebbe s x y, ha un peso 11 e non 10 e quindi non è il percorso più breve. Ok? Allora questo è il tipo di risultato che viene calcolato da tutti questi algoritmi. l'albero di visita sotto forma di archi inversi e i pesi delle destinazioni, calcolate nel caso minimo. Ok, come fanno gli algoritmi a calcolare questo valore? Innanzitutto dobbiamo convincerci che sia sufficiente una rappresentazione di questo genere, perché questa rappresentazione mi da, noi abbiamo preso a caso y e abbiamo usato questa tabella per trovare il cammino minimo verso y, ma arriva un altro e dice senti ma qual è il cammino minimo verso v? E noi questa tabella abbiamo, quindi per trovare il cammino minimo verso v seguiremo questa tabella dicendo v devi arrivarci da x eccetera eccetera. Però il dubbio che mi viene è ma questa tabella qua vale, è la stessa per ogni cammino minimo partendo da s? Chiaramente s è fisso. Oppure se devo calcolare il cammino minimo da s verso y o una certa serie di scelte e se dovessi calcolare il cammino minimo da s verso v dovrei fare delle scelte diverse. Quali sono le scelte ottimali per arrivare a v magari sono diverse dalle scelte ottimali per arrivare a y? E la risposta a questo dubbio è no. Nel calcolo dei cammini minimi la scelta ottimale da fare per raggiungere un ciascun vertice non dipende da quale vertice sto cercando di raggiungere al fondo. Il vertice precedente a un determinato nodo intermedio non dipende da quale è la destinazione finale. se ovviamente questo vertice intermedio fa parte del cammino minimo. È come dire se io devo andare da Torino a Roma e mi dicono che per andare da Torino a Roma il cammino minimo è passare da Genova. Oppure se devo andare da Torino a Firenze e anche lì mi dicessero non so se sia così che il cammino minimo sia sempre passare da Genova. Quindi ho due destinazioni finali diverse, Roma e Firenze. In entrambe supponiamo di sapere che il cammino minimo passa da Genova. Allora, come ci arrivo a Genova, da Torino a Genova, il tratto da Torino a Genova, in particolare l'ultimo tratto per arrivare a Genova, non dipende dal fatto che io debba continuare verso Roma o continuare verso Firenze. All'inizio può sembrare anche intuitivo, però abbiamo messo l'ipotesi di sapere già che Genova sta sul cammino minimo. Allora se io ho un punto che già conosco, già so che è sul cammino minimo, allora sono sicuro che il modo migliore per arrivare a questo punto intermedio non dipende da dove dovrò andare dopo. E' chiaro che se devo andare a Venezia Genova non sarà sul cammino minimo. E allora non vale questa regola. Quindi questo però mi dice che io potrei calcolare dei cammini per ogni singolo vertice e questi possono essere cammini minimi per ogni singolo vertice di destinazione e questi possono svolgere un ruolo doppio. La tabella di V mi dice qual è il modo migliore per raggiungere V, cioè passare da X, ma mi dice anche qual è il modo migliore per raggiungere qualche altro vertice che abbia deciso che il modo migliore per essere raggiunto è quello di passare da V, qualche attraverso successivo. Quindi quando Y mi dice passa da V per raggiungermi, il modo migliore di raggiungere V è quello di far finta che la mia destinazione finale sia proprio V. E questo principio è quello su cui si basano poi alla fine tutti gli algoritmi. Innanzitutto questo principio è quello che mi permette di dire che l'insieme dei cammini minimi forma un albero. Perché ogni vertice ha un unico vertice precedente, se consideriamo i cammini minimi, proprio grazie alla proprietà precedente. Altrimenti no, altrimenti sarebbe un grafo generico, non un albero. Quindi quando prima abbiamo detto, beh, costruiamo un albero dei cammini minimi e solo adesso possiamo essere sicuri che veramente un albero è sufficiente, ok? Proprio per la proprietà che dicevamo di prima, su cui si basa tutto. E quindi di fatto questi algoritmi cosa fanno? Calcolano l'albero dei cammini minimi. Quindi quando diciamo l'algoritmo per il calcolo di un cammino minimo, in realtà l'algoritmo dentro si calcola quest'albero, che da un vertice di partenza si espande e mi esistisce un albero che codifica, con quelle due o tre belline che abbiamo visto, che alla fine è un modo semplice per rappresentare un albero, codifica tutti i possibili cammini minimi. Quindi in questo caso, nel nostro esempio di prima, questo sarebbe l'albero, un albero un po' striminzito perché non si ramifica, ma pazienza, relativo ai cammini minimi in partenza dal vertice S, che di fatto non è altro che la rappresentazione grafica di questa tabella qua, tale e quale. abbiamo tolto tutti gli archi che non ci servono, che non giacciono sul cammino minimo di nessuna destinazione, partendo come sorgente S, ponendo come sorgente S. ovviamente se il grafo fosse un grafo non pesato o se i pesi fossero tutti uguali, questo albero dei cammini minimi coincide con l'albero della visita in ampiezza, ma questo già lo sapevamo, se non ho i pesi la visita in ampiezza mi da già i cammini minimi. Allora applicando ricorsivamente la proprietà di prima, ciò che possiamo dire è che se io ho un cammino minimo, qualcuno mi dice per assurdo che io conosco già il cammino minimo tra il punto di partenza 1 e il punto di arrivo K, qualunque sotto insieme io prenda, sotto sequenza io prenda dei vertici che compongo i cammini minimi, essa stessa sarà un cammino minimo tra questo verticino di partenza e questo verticino di arrivo. Quindi quest'albero dei cammini minimi è un albero che vale non solo complessivamente partendo da S, ma anche ogni singolo ramo di quest'albero contiene dei cammini che sono minimi relativamente chiaramente al punto di partenza scelto. Questo, vabbè, in generale è un po' difficile da sfruttare, ma concentriamoci su una particolarità, un'applicazione particolare di questa proprietà, l'ultimo arco, visto che poi noi alla fine ricostruiamo l'indietro, questi alberi. Allora chiediamoci l'ultimo arco, che proprietà ha l'ultimo arco? L'ultimo arco, se il punto di arrivo è V e il punto di partenza è RS, l'ultimo arco passerà da un vertice precedente e qui è un cammino che può comprendere tanti vertici, non lo sappiamo. L'ultimo. Allora, la definizione di distanza mi dice che la distanza minima per arrivare a V, se questo è il cammino minimo, sarà, e quindi se U appartiene al cammino minimo, la distanza minima per arrivare a V sarà la distanza minima per arrivare a U, attraverso il percorso minimo, più il peso dell'arco che collega U a V. Bella forza, no? Tu hai ipotizzato già di sapere qual è il cammino minimo, è chiaro che devo passare da U, calcolo la distanza da SU più la distanza da U a V. Adesso proviamo a rimuovere l'ipote di sapere che questo sia un cammino minimo. Se non fosse un cammino minimo, se io non fossi ancora sicuro che devo passare da U per arrivare a V, cosa succederebbe con altri vertici che potrebbero essere potenziali predecessori di V, questi U' che ho disegnato in questa figura? Beh, allora, se l'equazione di prima valeva nell'ipotesi che il cammino per V fosse minimo, vuol dire che se io scegliessi un vertice U' diverso da quello giusto U, quella che era un'uguaglianza diventa un'uguaglianza. Cioè questa somma non è più minima e quindi sarà maggiore del minimo. Questo delta, ricordiamoci, è un simbolo matematico che rappresenta la distanza nota, reale, minima, che di solito non è ancora nota, no? Scusate, ho detto nota, ma è teorica, la distanza minima è teorica. Quindi se io scegliessi come penultimo vertice, un vertice che non è quello migliore, allora la distanza minima da S a U' più l'arco da U' a V non mi dà il minimo. Fino a U' sono arrivato nel modo migliore possibile, ma il problema è che non dovevo passare U' perché poi l'ultimo pezzo mi dà un valore di somma che è maggiore del valore di somma che avrei passando da U che invece è la scelta migliore. Allora questa disuguaglianza è quella su cui lavorano tutti gli algoritmi. Dicono questa è vera, è un'identità, è sempre vera. Identità, disuguaglianza, insomma, è un invariante si dice in termini algoritmici. Questa è una proprietà sempre vera. È sempre vero questo maggiore uguale, ma diventa uguale nel caso in cui io sia sul cammino minimo. Allora cosa farà l'algoritmo? L'algoritmo cercherà di iterare sul grafo cercando di trovare, fatemelo dire brutalmente, U' diversi finché non trova quello che minimizza questo valore. Lo devo fare in modo iterativo perché questa disuguaglianza non solo contiene la distanza verso V, che è quello che stiamo cercando, ma si basa, la cui conoscenza si basa, sulla distanza verso U', gli U' primi che provo. E questi a loro volta non sono noti. li sto cercando di scoprire, andando a capire qual è il vertice penultimo da visitare, migliore. Quindi ho una cosa iterativa. Se io avessi una stima, la stima ovviamente sto facendo a un minimo, quindi la stima ce la vorrò solo per eccesso. Se per arrivare a U ci arrivo con peso 10, e con questo U' e quest'altro U' potrei avere un peso maggiore di 10. allora diventa, visto che questo delta, se non lo conosco ancora in modo esatto, se l'algoritmo non è ancora arrivato al fondo, all'ottimo, questo delta è stimato per eccesso, alla destra dell'uguaglianza ho un numero più grande del minimo e quindi è più facile starci dentro con delta. Quindi è più facile inizialmente pensare che U' sia sufficiente per raggiungere il minimo finché non trovo un modo più furbo per raggiungerlo o per raggiungere un altro vertice. Per dire, è un algoritmo che deve in qualche modo provare a minimizzare questa disuguaglianza fino a quando non troverà un assetto, una scelta di vertici in cui in tutti gli archi questo diventa un uguale e non un minor uguale. A quel punto ha trovato i cammini minimi. Quindi di fatto ciò che fanno tutti gli algoritmi in modo diverso è un meccanismo di questo genere. qui indico con la D non tanto il delta ma il delta approssimato, cioè la distanza che conosco finora, non quella finale. E allora vado a prendere una coppia di vertici, una alterna di vertici, scusate, U, V e W. che c'entra? W è il peso, scusa. U e V, due vertici. E mi chiedo, nota ovviamente la sorgente S, il percorso che conosco finora per raggiungere V, che è il punto d'arrivo, il peso del percorso che conosco finora conosco, non ho detto che sia il minimo, è maggiore della lunghezza del percorso che conosco finora per raggiungere U più il peso tra U e V? Se sì, allora vuol dire che ho trovato, leggiamolo l'uguaglianza al contrario, io sapevo raggiungere V in un certo modo, ma adesso ho trovato un altro modo, passando da U e attraversando l'arco tra U e V ho trovato un modo che è un peso minore. allora ho scoperto, non so bene prima come raggiungessi V, ma adesso ho scoperto che passare da U è meglio. E quindi aggiorno la distanza di V, adesso che conosco è quella che ottengo passando da U, e aggiorno la tabella di predecessori, dicendo il predecessore migliore finora, che abbia trovato finora, di V e U. Questa è una procedura che si chiama di rilassamento, o di sostituzione, che fa due cose, o lascia invariata i vettori D e Pi greco, i precessori a distanze, perché magari questa, sappiamo che qua non potrà mai essere un minore, o è maggiore o è uguale. Se è uguale non fa niente, se è maggiore migliora qualcosa. E quindi se io ripeto questa cosa qua per tutti i vertici più volte finché qualcosa migliora, prima o poi quando nulla più migliorerà tentando tutti i possibili vertici, significa che ho trovato il minimo. Cosa fanno i vari algoritmi? Sicuramente usano tutti lo stesso meccanismo, una figura che dice se io sapevo raggiungere V con peso 4, 5 più 4 è 9, ma adesso lo so raggiungere con un arco da U, che è la distanza di U più quella di V, che è 7, allora dirò che è meglio raggiungere V passando da quest'arco. In realtà, sicuramente, questa figura è sbagliata perché non è detto che questo percorso passasse da U. quindi, adesso tagliamo corto i vari lemmi, i vari dettagli, tutti gli algoritmi, qui parlo al plurale, per il calcolo dei cammini minimi, si basano essenzialmente su questo meccanismo. In che cosa differiscono? Sono più o meno efficienti a seconda dei tipi di grafici che incontriamo. perché io ve l'ho detto così, ripeto questa funzione di rilassamento tante volte su tutti i vertici, finché trovo un punto fisso in cui non cambia più nulla. Però con che logica lo faccio? Qual è il modo furbo per fare questi tentativi in modo efficiente? ecco questo è il motivo per cui gli algoritmi variano nell'ordine con cui tentano fare l'operazione di rilassamento. Cioè cercano di indovinare meglio quali archi è meglio provare a rilassare rispetto ad altri e quindi arrivare a un risultato più in fretta. E quindi se andiamo a vedere nel nostro jgraphd, vediamo che c'è un pacco enorme di algoritmi tutti nel package cammini minimi. jgraphd.alg sapevamo che era il package dove c'erano tutti gli algoritmi. Dentro c'è un sorta package che si chiama cammini minimi, shortest path, e ti dico vabbè cosa vuoi che sia, cammini minimi. E in realtà ce ne sono, non so se sono 15 o 20, algoritmi diversi che risolvono tutti lo stesso problema. Quello di trovare i cammini minimi, tutti. Lo fanno in modo diverso. Lo fanno in modo diverso perché differiscono a seconda del problema che viene posto, quindi parto da un vertice sorgente o parto da tutti i vertici sorgenti. Lo fanno in funzione del tipo di grafo. Ad esempio c'è una versione shortest path bfs, bfs sta per breadth first search, che funziona solamente se il grafo non è pesato. Allora in quel caso specifico questo algoritmo è più efficiente degli altri perché basta fare una visita, no? È un caso particolare. Ci sono algoritmi cosiddetti bidirezionali in cui so già che mi serviranno sia il percorso che il percorso inverso e che su un grafo orientato non è detto che coincidano, ma l'algoritmo li calcola entrambi contemporaneamente. Ci sono vari algoritmi che funzionano in modo diverso. Ad esempio, vi faccio solamente dei flash, l'algoritmo Floyd-Warshall è un algoritmo che calcola tutti i cammini minimi a partire di tutti i versi di partenza in un colpo solo. Praticamente per calcolare tutti contemporaneamente non ha solamente una matrice di predecessori, di ogni versi di quale è quello precedente, non ha solamente un vettore di predecessori, ma una matrice di predecessori in cui mi dà il versi precedente a seconda, migliore a seconda di quale fosse il punto di partenza. Non entriamo nel dettaglio di come lavora, voglio solo farvi vedere una parte del cuore di questo algoritmo. Alla fine è semplicissimo. Sono tre cicli foranidati, con dentro quelle quattro righe che è il rilassamento. Se la nuova lunghezza è minore di, allora vado a ripiazzarla. E questo vedete che dentro non ha praticamente complessità, cioè non ha complicazioni. Ripete questa operazione di rilassamento dalle 12 alle 15, dalla riga 12 alle 15 dell'operazione di rilassamento, se ho 100 vertici, ripete questa operazione 100 per 100 per 100, un milione di volte e arriva alla fine. Non ha intelligenza sta roba qua, no? Forza brutta. Lo prova in tutti i modi possibili. Quindi ha un numero di operazioni da fare, che è il numero di operazioni di rilassamento da fare, che è il cubo del numero di vertici. Che il grafo sia piccolo, grande, sparso, denso, eccetera, il numero è costante. Il fatto di avere una costante può tornare utile perché so esattamente quanto tempo ci metterà l'algoritmo. Non dipende dal tipo di grafo. Invece su grafi molto densi, quando hai veramente molti cammini, a volte è inutile sprecare tempo per cercare di, perché sono talmente tanti cammini, è inutile sprecare tempo per cercare di ottimizzarli, li fai tutti. Quindi questo è un vantaggio di questo. E tra l'altro subito dopo mi dà tutti i cammini minimi. Quindi vedete che la complessità e il tempo di esecuzione è proporzionale al cubo. Per avere tutti i cammini minimi. Ovviamente dentro jGraphc c'è una classe che implementa questo. va bene. Altri algoritmi, ne cito altri due, Bellman for Moore calcola invece i cammini minimi a partire da una singola sorgente. Per ogni arco provare la storia di tutti i possibili, per ogni vertici provare la storia di tutti i possibili archi e lo faccio, eccetera. e la complessità di quindi il numero per azione di questo algoritmo è proporzionale al numero di vertici per numero di archi. Allora già capiamo che se il grafo fosse molto denso il numero di archi è dell'ordine di v al quadrato. Quindi questo algoritmo per un grafo denso non conviene. perché avrebbe una complessità circa v per v al quadrato, se il grafo è molto denso, diciamo che il numero di archi è il quadrato di vertici, e mi calcola un cammino, o meno i cammini a partire da una sola sorgente. L'altro mi calcolava con una complessità v al cubo tutti i cammini. Quindi in quel caso sarebbe stato più comodo l'altro. Mentre invece se avessi un grafo più sparso, con una densità bassa, allora il numero di archi diventa proporzionale al numero di vertici, quindi se il grafo ha dei nodi con un grado di 3, 4, 5 massimo, il grado di ogni vertice, allora il numero di archi sarà 3, 4, 5 volte il numero di vertici. Quindi proporzionale al numero di vertici. E allora ho una complessità che parla al quadrato, il numero di vertici, non al cubo. E se mi basta i cammini a partire da una sola sorgente, mi conviene. Ho un algoritmo che è, nel nostro esempio del 100, 100 volte più veloce. Qui diventa effettivamente dai casi che ho sotto mano, per questo ci sono così tanti algoritmi. Qui non entro nel dettaglio, così come non sono entrato prima, ma come si vede che il cuore dell'algoritmo alla fine qui dentro ha sempre la solità if. Cioè si basano tutti sullo stesso meccanismo. Lo sfruttano in modo diverso, in modo da essere più o meno efficaci per i vari tipi di grafi. Ecco, uno di quelli più famosi, non so se è più famoso perché il nome della persona è strano, Dijkstra, o Dijkstra, non so come si dica in fiammingo la pronuncia originaria di questo signore, che è di nuovo una soluzione al problema single source, quindi a partire da una sorgente sola, come Bellman Ford che abbiamo appena visto. Un caso particolare sia su Dijkstra che su Bellman Ford è che nel caso in cui ci siano degli archi con peso negativo questi algoritmi sbarellano, nel senso che attraversare un arco che mi faccia ridurre il peso fa venire appetito all'algoritmo di attraversarlo più volte e quindi creerebbe un cammino minimo che sarebbe un cammino minimo di lunghezza infinita perché cerca di attraversare tantissime volte un arco negativo e tra l'altro è un cammino non semplice. Quindi normalmente poi nei casi reali è difficile che uno per andare da Torino a Genova ma li riempiono il serbatoio, di solito si svuotano, quindi il peso, il costo negativo non ce l'abbiamo nei problemi reali. E quindi questi algoritmi lavorano solamente se gli archi sono tutti positivi e un vantaggio di questo algoritmo che lo rende più efficiente, per questo forse è più famoso, è che lui aspetta a rilassare un arco fino al momento in cui è sicuro che quello sia il valore finale. Cioè non dice ma proviamo adesso rilassarlo e poi magari ci riprovo dopo quando ho una stima migliore della distanza per il vertice precedente. Quindi cerca effettivamente di minimizzare il numero di rilassamenti e lo fa elaborando gli archi, o i vertici diciamo così, i pendenti, sulla base della distanza minima. Cioè lui dice io cerco di espandermi poco per volta, un pochino come se fosse una visita in ampiezza e quindi qual è il prossimo vertice di cui cerco di rilassare, cioè di cui cerco di trovare qual è la distanza minima? Ebbè quello che è più vicino al vertice che ho scoperto finora. E quindi mi espando nella direzione dei grafi, non cercherò mai di spostarmi su un vertice a distanza 10 se non ho prima guardato il vertice che è a distanza 8. Allora, qui non stiamo entrando nell'algoritmo, stiamo solo cercando di capire l'idea che c'era indietro e questo fa sì che, ovviamente lui fa sempre questa operazione di rilassamento, ovviamente, ma la fa solamente quando è opportuno e se questo if funziona verrà fatto una volta sola. Quindi minimizza il numero effettivamente di rilassamenti che fa e lo paga ovviamente. Da un lato fa meno operazioni di rilassamento, ma poi che cosa fa? Fa dei calcoli di minimo in continuo. Deve mantenere ordinati questi vertici. Mentre l'algoritmo precedente di Belman Ford, anche questo era abbastanza cieco, prendi gli archi, vedi, ciclo su tutti gli archi, come vengono, vengono. L'algoritmo alla fine converge, però lì prende tutti in un ordine casuale. Quindi magari prende un arco e lo rilassa quando in realtà è ancora molto distante dal punto di arrivo dell'algoritmo e allora lo dovrà riprendere nelle interazioni successive. Qua c'è un ciclo sugli archi che è dentro un ciclo che ripete il tutto tanti quanti sono i vertici, quindi ripeto più volte. Mentre qua no. Allora, spende più tempo a mantenere ordinati i vertici e spende meno tempo a fare rilassamento. E vabbè, qui risparmio l'algoritmo. E quindi ha un tempo di esecuzione che alla fine è di questo ordine di grandezza qua. Ma alla fine tutte le implementazioni, questo v al quadrato è perché ogni volta devo inserire e togliere da una lista in ordine. Ma di solito questa operazione di calcolo di minimo viene implementata con una coda prioritaria. Il coda prioritaria che abbiamo visto nelle simulazioni. che sono ottimizzate, lo sappiamo, per estrarre il minimo ogni volta. E quindi lavorano su delle strutture dati, no, a heap, che non mantengono l'ordinamento totale come un'operazione di sort che mi costa via quadrato, ma mantengono solamente un ordinamento parziale che mi permette di estrarre il minimo. Allora, in questo caso, ho un algoritmo che ha un'efficienza ancora migliore di quello precedente. Quindi il numero di archi più il proporzionale a v log v, come dove se via il numero di vertici del mio grafo. È più o meno di Floyd-Warshall? Beh, sicuramente è meno, perché al massimo ho v quadro più v log v. Però attenzione, questo è v cubo, ma me li calcola tutti. Invece qui l'aestra me li calcola solamente partendo da una sorgente. Può essere più o meno efficiente di Bernanford, anche qua dipende, perché qui c'è una somma, qui c'è una moltiplicazione, dipende dai numeri, alla fine. Queste sono, diciamo così, alternative. Noi abbiamo il vantaggio che nella libreria j-graph-t questi metodi sono tutti implementati. Ognuno ha la sua classe, funzionano praticamente tutti nello stesso modo. Si tratta semplicemente di creare la classe che vogliamo, nel costruttore gli si passa al vertice di partenza e alla fine poi lo interroghiamo sui cammini. Ad esempio, se volessimo usare, giusto per capire come funziona l'algoritmo di Dijkstra, Dijkstra sotto spazio, poi c'è anche la versione many to many, dove invece volessi un adattamento di Dijkstra che mi calcola tutti i percorsi contemporaneamente. Come funziona questo? Creo la classe e nel costruttore gli posso passare il grafo, oppure il grafo, beh lui chiama un raggio, cioè la distanza massima. Se avessi un grafo molto grande direi guarda cercami solamente i cammini che però non superano una certa distanza, quindi limita un pochino la ricerca. E poi ho un metodo getPath che è qua, in cui gli passo una sorgente e una destinazione. E lui mi restituisce un oggetto graphPath che di fatto è una lista di vertici. Poi graphPath ha il metodo per estrarre i singoli vertici. Quindi non dobbiamo implementare noi nessuno di questi algoritmi, semplicemente volessimo calcolare il cammino minimo tra una sorgente e una destinazione, creiamo un oggetto di tipo Dijkstra e gli chiamiamo il metodo getPath e poi a quel punto lui macinerà nel momento in cui gli chiamiamo il metodo, facendo il calcolo a partire da questo sorgente e poi mi dà il cammino. Se vogliamo provare Berman Ford, eccolo qua, funziona in modo simile, nel senso che qui abbiamo anche un costruttore a cui passa ovviamente il grafo, poi altri parametri che servono internamente all'algoritmo e poi dentro avrà il metodo getPath uguale prima. Non implementano tutte la stessa identica interfaccia perché hanno dei parametri in più, dei metodi in più che dipendono dall'algoritmo all'algoritmo, ma alla fine il meccanismo di funzionamento è sempre lo stesso. Se volessimo tutti i cammini da una singola sorgente li potremmo avere, ecco c'è un metodo getPath che abbiamo sia qua che là. Quindi sono pronte per noi. qui in questa tabellina qua ho provato a riassumere i vantaggi e i vantaggi grossomodo dei vari, dei 3-4 algoritmi principali che abbiamo citato, che hanno un'efficienza diversa e quindi possono essere adatti più o meno, ad esempio questi AP all path, queste 3 varianti calcono tutti i cammini, queste altre SS calcono solamente i cammini a partire da una singola sorgente. Ho messo anche la visita in ampiezza che sappiamo che funziona solamente se il grafo non ha pesi. Qui parliamo quindi di cammino minimo tra due punti distanti di un grafo. Ok? Non confondiamo vertici raggiungibili con vertici collegati, no? A volte è successo alcune volte all'esame di vedere persone che cercavano di impostare un cammino minimo per trovare lì adiacenti di un vertice. Noi adiacenti ce l'hai nei bord, direttamente nel grafo, non devi fare nessun calcolo, no? Cammino minimo ha senso se il vertice di arrivo è distante dal vertice di partenza allora devi trovare il modo migliore per raggiungerlo. E ovviamente se non hai un albero perché a questo punto... Ecco, l'altro concetto anche qui, facciamo un ripasso veloce delle definizioni e poi vediamo quali sono i metodi che possiamo usare su un grafo. Sempre parlando di cammini, parliamo di cammini che tornano al punto di partenza. Che sono i colletti cicli. Quindi ovviamente non ha senso chiederci la distanza minima, no? Se torno al punto di partenza sarà zero. Un ciclo, abbiamo detto, sappiamo che è un cammino il cui punto di arrivo l'ultimo nodo è uguale al primo, e questo lo sapevamo, ci possono interessare dei cammini particolari sul grafo, no? Tipicamente il problema che si pone quando si parla di cammini è il famoso problema del commesso viaggiatore, in cui ho una serie di consegne da fare in città diverse e devo trovare un cammino chiuso, perché il mio camion parte da un punto, da un deposito e deve tornare in quel deposito lì, e toccare tutti i vertici che sono stati assegnati, col minimo costo. Quindi in questo caso si parla dei cicli cosiddetti hamiltoniani, perché li ha studiati lui, questo Hamilton, che sono cicli che toccano tutti i vertici di un grafo. Un cammino mintoniano è un ciclo che visita ciascun vertice esattamente una volta. Poi se è un cammino o un ciclo dipende dal fatto che voglio imporre o non imporre il vincolo che il punto di arrivo sia uguale al punto di partenza. Un altro tipo di ciclo, quindi ciclo miltoniano, tocco tutti i vertici. Di solito è un ciclo semplice, quindi tocco tutti i vertici una volta sola. Oppure abbiamo un'altra definizione di ciclo euleriano, o cammino euliano, di nuovo la differenza tra cammino e ciclo è il vincolo di chiudersi oppure no, in cui invece voglio usare tutti gli archi del grafo, possibilmente una volta sola. Quindi sono due definizioni molto simili, un cammino che tocca tutti i vertici e un cammino che tocca tutti gli archi. Il concetto di grafo euliano è quello con cui è nata la teoria dei grafi, che era nata sullo studio dei sette ponti di Königsberg, l'avevamo detto qualche mese fa, dove proprio la passeggiata sui ponti era, questi ponti erano archi tra le varie isolette della città e bisognava fare la passeggiata attraversando tutti i ponti e tornando al punto di partenza. e abbiamo scoperto che non si poteva fare. Ovviamente quando parliamo di cicli le domande che ci potremmo fare dal punto di vista algoritmico sono esiste un ciclo? Perché magari il grafo è aciclico. Se esiste, ne esiste più di uno? Se ne esiste più di uno, mi basta trovarne uno o mi servono tutti? Di solito su un grafo, se il grafo non è pesato, mi basta un problema di esistenza. Posso toccarli tutti o no? O quello dei ponti? Posso attraversarli tutti? No, la risposta è no. Se la risposta fosse sì, ti direi sì. Ma in questo caso, non avendo un peso, se ci fossero cento soluzioni diverse sarebbero tutte uguali perché sarebbero tutte composte esattamente da 9 archi. Avrebbero tutte la stessa lunghezza. Perché devo toccare tutti gli archi e gli archi quelli sono. Quindi, nel caso in cui il grafo non è pesato, normalmente mi interessa sapere se c'è un ciclo mintoniano, se c'è un ciclo euleriano oppure se non c'è. Se il grafo non è pesato nel momento in cui c'è un ciclo, tutti gli altri sono equivalenti adesso, hanno lo stesso valore perché non ci sono pesi. Se invece il grafo è pesato, allora nasce sotto problema di dire non solamente trovo un ciclo, ma se ci fosse più un ciclo trovo quello migliore, quello di peso minimo. Addirittura ci sono dei casi, pensate a quello di trasporti si avvicina abbastanza, in molti casi i grafi sono completi. Il discorso del commesso viaggiatore delle varie città non mi interessa sapere le strade, le viuzze, mi interessa sapere per ogni città qual è la città successiva. La posso scegliere tra tutte le altre. Quindi l'insieme dei possibili percorsi lo devo ragionare su un grafo completo, che ha tutti gli archi possibili e immaginabili. Allora molto spesso se quando ho dei problemi di ricerca di cicli su grafi pesati, il problema non è tanto se il grafo è ciclico o no di trovare un ciclo, perché essendo un grafo o completo o con una densità molto alta, il ciclo lo trovo subito, anzi ne trovo troppi. Il problema è trovare quello minore. Quindi la definizione è sempre la stessa, il ciclo miltoniano, ma il tipo di informazione che estrago dipende fortemente dal tipo di problema e dal tipo di grafo e quindi anche qua troveremo tanti algoritmi diversi. Tra l'altro quello che si scopre è che i due problemi, i due tipi di cicli che abbiamo definito, miltoniano e ureriano, dal punto di vista della definizione si somigliano molto. Tocca a tutti i vertici, tocca a tutti gli archi. Dal punto di vista dell'implementazione sono due mondi completamente diversi. Nel senso che per i cicli euleriani è facilissimo trovare un cammino euleriano e tra l'altro, dove è andata la definizione? Non sono perso, pensavo, scusate, ho perso una slide che diceva qual è la condizione per cui esista un ciclo euleriano è quello che tutti i vertici abbiano un grado pari. Fine. Se tutti i vertici del tuo grafo hanno un grado, qui il numero di vertici entranti e uscenti, pari, allora esiste un ciclo euleriano. Punto. E si trova con un algoritmo molto semplice che di fatto parte da un punto a caso, va avanti a caso, facendosi alte arbitrarie senza nessuna regola, senza bisogno di backtracking, senza bisogno di ottimizzazione, fino a quando andando a caso, per caso, torna al punto di partenza. Allora avrà fatto un ciclo in cui tocca tanti vertici. Ad esempio, sono partito dal punto E, perché sono andato avanti un po' a caso e mi sono ritrovato dal punto di partenza. Allora, perché mi sono ritrovato dal punto di partenza? Perché il grafo è finito, non è un grafo infinito. Quindi da qualche parte, prima o poi, o trovo vertici sempre nuovi oppure trovo un vertice in cui ero già stato. Evito i vertici in cui ero già stato perché voglio un grafo semplice, l'unica opzione è quella di fermarmi sul vertice di partenza che prima o poi raggiungerò. Prima o poi raggiungerò? Se lo raggiungo poi, vuol dire che lo raggiungo quando ho già visitato tutti gli archi. E allora ho risolto il problema. Se lo raggiungo prima, vuol dire che ho visitato alcuni archi ma ne rimangono altri da visitare. E allora cosa faccio? Prendo un punto a caso su questo cammino, ad esempio H, e riparto da H a fare giri, a caso. Fino a quando, a caso, torno di nuovo su H. Se non torno su H, vado avanti. Man mano che vado avanti, consumo archi, quindi sono contento. Se a un certo punto ritorno al punto di partenza, vabbè, sono tornato qua. Ho comunque fatto un cammino più lungo, che si interseca su H, ma nel caso del ciclo ulteriori non importa, posso passare più volte da un vertice, non posso passare più volte da un arco. E quindi avrò il cammino in cui concateno il cammino precedente, H, G, E, I, J, H e poi dopo ci aggiungo questo pezzettino qua. E poi vado avanti così. Perché questo algoritmo funziona? Perché abbiamo fatto l'ipotesi che tutti i nodi abbiano un numero pari di archi. quindi uno per entrare e uno per uscire. Quindi se entro in un vertice non capita mai che entri in un vicolo cieco. Perché se ci sono entrato, usando un arco dispari, ci posso uscire usando l'arco pari. Quindi questo arco H che ha uno, due, tre, quattro, cinque, grado sei, ci entrerò tre volte e ci uscirò tre volte. Se avessi un vertice con grado tre sarebbe un problema perché ci entro, ci esco, va bene, e poi ci rientro e rimango bloccato lì. E quindi il ciclo non può continuare. Questa è chiaro che è una funzione sufficiente, ma è facile da capire che sia sufficiente e hanno dimostrato che è anche necessaria. E quindi l'algoritmo per il calcolo di un ciclo delleriano semplicemente è proporzionale al numero di archi. Perché ogni volta che scelgo un arco quello va sempre bene. Sono sicuro, la struttura del grafo mi garantisce che non rimanga mai bloccato. Quindi ha un tempo di esecuzione proporzionale al numero di archi. Qui c'è scritto qua, proporzionale al numero di archi. Semplicissimo, se non ha complessità particolare. Invece gli altri tipi di grafi, quindi basta una classe sola, ti risolvi il problema nel caso generale e sei a posto. Nell'altro caso, che è quello dei cicli hamiltoniani, invece non esiste una soluzione nota. Non esiste una soluzione esatta nota che non abbia la complessità esponenziale, perché la soluzione in realtà ce l'abbiamo. Vado giù di ricorsione e le provo tutte. Però sai, con 100 città, 100 fattoriale, comincia ad essere un numerino che ci piace poco. Il bello degli algoritmi che abbiamo visto finora e di tutti quelli che studiate a ricerca operativa sono algoritmi la cui complessità è polinomiale, non di solito, o poco più che polinomiale. Allora, va bene, sono studiati in casi particolari e quando riesci a ricadere in quel caso sei molto efficiente. Però ci sono dei casi come questo del commesso viaggiatore di cui non è nota nessuna soluzione polinomiale. La soluzione con tempo esponenziale o fattoriale è nota, basta fare ricorsione, basta provare tutti i casi, ma non è praticabile. E quindi cosa capita in questi casi? E beh, in questi casi, tra l'altro questo del commesso viaggiatore è un problema tipico di una classe di problemi che, chi studia la teoria complessità la chiama problemi NP completi, NP per non polinomiale, di cui non è nota nessuna soluzione polinomiale, ma tutte esponenziali o peggio. Perché sono importanti questi problemi? Perché sono tutti collegati tra di loro. Se ne risolvi uno, puoi risolverli tutti. Solo che non è noto finora, il problema chiave dell'informatica teorica, se non esista proprio una soluzione polinomiale a questa classe di problemi, oppure esista ma non siamo ancora stati capaci a trovarla. Non si sa. Se uno riuscisse a risolvere un problema della classe NP in tempo polinomiale, diventerebbe la persona più famosa del mondo e il giorno dopo crollerebbe tutto. Perché pensate alla criptografia, quindi tutta la sicurezza si basa su problemi che sono non polinomiali per essere invertiti. Se uno riuscisse a trovare un modo di risolvere in tempo polinomiale un problema non polinomiale, bisognerebbe ricostruire tutto. Perché il giorno dopo qualunque transazione bancaria, tra qualunque password, eccetera, sarebbe istantaneamente craccabile in tempo trascurabile. Per ora nessuno ci è arrivato, nonostante la posta in gioco sia molto alta, quindi ci sono buoni sospetti che questi problemi non si potranno mai risolvere in tempo polinomiale. Chiaro che più avanti più i calcolatori sono potenti, allora sarà 10 volte più potente, 100 volte più potente, ma quando hai davanti un esponenziale, un fattoriale, stiamo sempre comunque arrancando dietro, no? Avere computer più potenti, vuol dire che riusciamo a passare da problemi di dimensione 5 a problemi di dimensione 7, ma non a problemi di dimensione 70, ad esempio, no? Tanto per fare l'esempio del quadrato magico che avevamo visto. Questa è una bella grana, perché poi io domani quando devo uscire col furgone non è che posso dire benissimo lanciamo l'algoritmo e tra 200 anni andiamo a vedere che giro devo fare. Devo avere una soluzione decente, rapida. E allora nasce il mondo delle soluzioni approssimate. Tutti questi algoritmi funzionano, questi vari algoritmi che risolvono il problema del ciclo Hamiltoniani, addirittura c'è un'interfaccia che raccoglie una serie di classi, usano delle tecniche approssimate. E queste tecniche approssimate vuol dire che non ti garantiscono la soluzione ottima, non ti garantiscono il percorso di lunghezza minima. ti garantiscono un percorso di una lunghezza, speriamo accettabile, e sfruttano o dell'approssimazione di calcolo o delle ipotesi in più sul grafo di partenza. Ad esempio, qui ce ne sono alcune, dice, guarda, io ho questa qua, tu approssimate metric TSP, TSP sta per Travelling Segment Problem, quindi il problema del commesso viaggiatore, metrico. metrico cosa vuol dire? Vuol dire che i pesi del grafo rispettano la disuguaglianza triangolare. Quindi se il grafo rappresenta delle distanze reali, una carta geografica, va bene, lo rispettano. La disuguaglianza triangolare, sapete che se io ho un arco da AC, la lunghezza del segmento tra AC è sempre minore di AB più BC per qualunque sia AB. Qualunque sia il concetto di distanza che definite, non necessariamente deve essere la distanza lineare o clidea. Però un grafo metrico è un grafo in cui è rispettata questa disuguaglianza triangolare, che succede in questa grande pagina dei casi. Quindi non è un grafo qualunque, è un grafo che ha queste caratteristiche. Allora, se ci sono queste caratteristiche rispettate, questa classe mi dà una soluzione al problema del commesso visiatore che ha garantito non sia più del doppio della distanza minima. Cioè se questo mi dà una soluzione di 100 km, vuol dire che io ho una soluzione lunga 100 km e l'ottimo non sarà più piccolo di 50 km. Cioè l'errore di cui sbaglio al massimo è 2. E poi c'è quest'altro qua che invece dice ma no, io faccio meglio perché faccio tre mezzi. Quindi 1,5. Sempre su un grafo metrico. Adesso bisogna andare a vedere magari questo qua un pochino più lento ma mi dà un'approssimazione un pochino migliore. Questo invece è un algoritmo puramente euristico. Tu opt cosa ti dice? Prende un percorso qualunque, mette i vertici che sono in ordine e fa un percorso. Se li metti in ordine alfabetico chiaramente non ti viene proprio un percorso furto. E comincia a fare scambi. Quindi vertici A, B, C, D, E, F, G e creano un grafo di una lunghezza, un percorso, un ciclo di una lunghezza spropositata. E poi proviamo a scambiare, prendere due vertici e scambiarli di posto. Se migliora teniamo diciamo quella della versione migliorata altrimenti li rimettiamo posto con me. E prova a fare scambi e ogni volta che riesci a fare uno scambio migliorativo questa distanza di questo ciclo diminuisce. Un po'. Tutti questi algoritmi se sono fortunati ti trovano l'ottimo. Di solito non te lo troveranno mai ma anche perché poi in realtà non sappiamo quale sia veramente l'ottimo e ci accontentiamo di qualche cosa. Oppure ci sono dei casi in cui c'è un grafo con una proprietà particolare e qui fa vedere il grafo metrico ma... ti dice ah io sono in grado di darti una sostituzione completa e esatta se il grafo è un grafo di Palmer. Adesso non chiedetemi quali sono le condizioni per essere un grafo di Palmer e quanto frequentemente siano rispettate però si sono trovati sottocassi di grafi in cui invece riescono a risolvere in modo efficace l'algoritmo. andiamo a vedere se se capiamo cos'è che non so il grafo di Palmer è un grafo che dove è andata la definizione? non lo dice che abbia questa condizione verificata questa condizione di ore che in questo caso lo risolve in tempo via al cubo. oppure c'è quest'altro algoritmo che ti risolve in complessità due alla n che è comunque esponenziale è sempre meglio di quello che faremo noi a mano quando invece proveremo tutte le permutazioni quindi faremo un n fattoriale. quindi ci sono dei cari ve l'ho dovuto citare perché alla fine poi purtroppo la normalità è questa noi ci andiamo a studiare tanti degli algoritmi efficienti che funzionano ma quando poi il problema che dobbiamo affrontare è un problema più complicato non sempre troviamo l'algoritmo che lo risolve anzi troviamo una famiglia e bisogna riuscire un pochino a barcamenarsi tra quello che è il tempo di esecuzione e la precisione anche noi facendo una cosa di questo genere abbiamo detto guarda il modello è complicato non ti so risolvere all'ottimo ma ti do allora uno strumento per fare dei tentativi e quindi in qualche modo usciamo dal dominio della ricerca operativa entriamo in quello dell'ottimizzazione vera e propria in cui ci sono delle tecniche approssimate che poi da un lato vanno verso algoritmi come si possono essere gli algoritmi genetici o tecniche pseudo-euristiche dall'altro vanno verso gli algoritmi di apprendimento tipo le reti neurali e tutto ciò che si sente oggi parlare nella cosiddetta intelligenza artificiale in cui ti do tanti esempi e poi spero che tu più o meno dagli esempi che ti do apprenda a risolvere il problema sempre in modo approssimato ormai i problemi esatti li hanno già risolti tutti i matematici dei decenni precedenti la sfida è quella di riuscire a risolvere problemi che in modo esatto non si possono risolvere ok questo era solamente un breve accenno qui avete riferimento alle classi se dovessero servire per risolvere questi tipi di problemi e direi che oggi vi posso congedare con questa carrellata di algoritmi ci vediamo domani pomeriggio al laboratorio LEP per la prima simulazione con metà di voi grazie 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 grazie